Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Il camion dei rifiuti si ribalta in discarica, l'autista ferito, estratto dalle lamiere e portato all'ospedale di Torrette Custode sorprende due uomini a rubare all'interno di una dimora storica, arrestati dai carabinieri Referendum sulla fusione di Monte Ciccardo con Pesaro, vince il sì, ma l'affluenza alle urne è scarsa Ricci non si festeggia, dice, ma iniziamo subito a lavorare insieme Gli animali invadono Piazza 20 Settembre a Fanno per la tradizionale festa di Sant'Antonio Abate C'è anche, chi fa bene dire, una lumaca La pozzanghera più lunga d'Italia è a Fanno nella zona del circuito Marconi Purtroppo manca i pesci, se no mi mettevo a pescare Dopo il telegiornale c'è Primo Cittadino, questa sera ospite in diretta il sindaco di Fossombrone, Gabriele Bonucci Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Benvenuti al nostro telegiornale Due persone sono state sorprese a rubare a Villa Palombara Sono state però sorprese dal custode che ha chiamato i carabinieri E quando sono arrivati hanno subito messo le manette ai due giovani, vediamo Il custode di una struttura ricettiva si è trovato faccia a faccia in pieno giorno con due ladri I quali per depistarlo gli hanno detto ingenuamente che stavano facendo solo un giro Ma in realtà avevano già accattastato un'ingente quantità di suppellettili già pronte Per essere caricate su una station wagon, per essere poi portate via Ma arrivano i carabinieri e li arrestano colti in flagrante E' quanto incredibilmente accaduto alle 11 di ieri mattina nella residenza storica Villa Palombara di Monteporzio Sede anche di un agriturismo Il custode si è accorto di alcuni rumori provenienti dal piano terra della struttura E si è subito insospettito dato che in questo periodo la struttura è chiusa al pubblico E' sceso e ha trovato i due uomini che gironzolavano per la struttura E che alla sua domanda su che cosa ci facessero lì Spavaldamente gli hanno risposto di essere lì per fare solo un giro Al custode però non è sfuggito da subito Che lungo il corridoio che porta alle stanze Vi erano sul pavimento diversi suppellettili E che altro materiale era stato posizionato proprio nei pressi dell'ingresso principale Tra cui violini, quadri, una lampada e altri oggetti antichi Di valore costituenti l'arredo dello stabile Spostati dalla loro naturale posizione E pronti ad essere caricati sul mezzo parcheggiato poco lontano A quel punto, intuite le loro intenzioni, ha subito chiamato i carabinieri della stazione di Monteporzio Che sono arrivati in pochi minuti e ha ciuffato i due Un italiano e un rumeno rispettivamente di 35 e 38 anni di Senigallia Arrestandoli per furto aggravato in concorso di beni dalla residenza storica Villa Palombara I due complici avevano già ammassato due violini, 10 quadri, 5 icone antiche in legno Raffiguranti immagini sacre, 5 lampade da tavolo, un calendelabro in ottone, un arco antico in legno E altri oggetti per un valore complessivo di circa 20.000 euro Materiale pronto per essere caricato su una Kia Creed Station Wagon di colori grigio Di proprietà dell'italiano rinvenuta a pochi metri dall'ingresso della struttura Le risultanze sono state così evidenti e trasmesse alla Procura della Repubblica di Pesaro Che ha chiesto la convaglia dell'arresto e il ritiro per direttissima Stamane l'udienza all'esito della quale l'italiano ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione E 250 euro di multa, mentre il rumeno ha patteggiato 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa Ad entrambi è stata inoltre erogata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio Con divieto di ritorno nel comune di Monteporzio per tre anni Paura questa mattina nella discarica di Casprete Siamo a Tavuglia, gestita da Marche Multiservizi Un camion proveniente da Foligno intento a scaricare si è rovesciato su un fianco L'autista, un 47enne, è rimasto incastrato nell'abitacolo riportando varie ferite Sono dovuto intervenire i vigili del fuoco per liberarlo Consentendo così il suo trasferimento in eleambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona Il camionista, che è di Foligno, è rimasto sempre cosciente sul posto per rilievi di legge Sono intervenuti gli ispettori dell'Asur e i carabinieri Il camion appartiene a una ditta di autotrasporti che si chiama D&D E che ha sede anche questa ditta a Foligno La fusione tra Monte Ciccardo e Pesaro ha vinto, come ormai è noto, il Sì Questa mattina il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha parlato in una conferenza di questa fusione Il piccolo comune di Monte Ciccardo, poco più di 1600 abitanti, si fonderà con quello di Pesaro È l'esito del referendum consuntivo di ieri, nei due centri A Pesaro ha votato a favore l'82,98% dei votanti, in tutto 5.498% con un'affluenza del 6,99% A Monte Ciccardo ha votato invece sì il 76,61%, 1.301 votanti complessivi e l'affluenza è stata del 63,26% Una votazione plebiscitaria a Monte Ciccardo che non lascia spazio a nessun tipo di interpretazione Ma che investe ora le parti interessate, soprattutto il versante pesarese, di un carico di responsabilità non indifferente Anche a Pesaro il risultato è stato netto, dice Ricci, anche se l'affluenza non è stata delle più alte La difficoltà è stata spiegare ai pesaresi che dovevano votare anche loro, ricordando ovviamente quanto già successo con Monbaroccio Da oggi il comune è più forte, più grande e credo che questo ci consenta anche di aprire una prospettiva nuova Perché credo che il territorio della bassa vallata del Foglia sia molto omogeneo Abbiamo già un'unione dei comuni insieme e io credo che nei prossimi mesi dovremo cominciare a ragionare Se questa unione dei comuni, soprattutto per i comuni della bassa vallata del Foglia Può diventare nei prossimi anni addirittura un'entità amministrativa unica E quindi come dire, un voto che dà anche forza al processo aggregativo E che ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra città Aiutando un territorio bellissimo ma che aveva difficoltà amministrative Ora un articolato e complesso lavoro aspetta l'amministrazione Partendo da un risultato così ampio, è facile intuire che le aspettative dei cittadini sono alte Viste anche le difficoltà dalle quali proviene il piccolo comune Che porta però in dote una radicata tradizione associazionistica E il suo bagaglio culturale e paesagistico Che arricchirà l'offerta turistica dei due comuni Mettendo in contatto il mare con i borghi dell'entroterra Abbiamo una grande possibilità di sviluppo del territorio Naturalmente dobbiamo organizzarci sul territorio Quindi la costruzione del municipio Intessere tutti i rapporti con Peso Sarà un lavoro estremamente impegnativo Il nuovo municipio di Monte Ciccardo Quindi come prevede l'accordo Potrà dare anche parere vincolante Sulle questioni inerenti al suo territorio E continuerà a erogare i servizi di Anagrafe, cultura, sport e servizi sociali Immutati resteranno i servizi scolastici e di scuolabus Che verranno anche migliorati Ora la proposta di fusione mercoledì Approderà in consiglio per la ratifica Dopodiché entro aprile la Regione Marche farà la legge E adesso parliamo delle vostre segnalazioni Ce n'è una che riguarda in particolare il metodo Utilizzato più o meno da qualcuno Che si dispa dei rifiuti Così lasciandoli in mezzo alla strada Vediamo Contro l'inciviltà e la maleducazione Di un gesto come quello di abbandonare i propri rifiuti Dove che sia in barba ad ogni senso civico Pur avendo a disposizione contenitori e punti di raccolta Lungo il proprio tragitto c'è poco da fare Se non beccare sul fatto l'incivile autore del gesto Ma siamo nel campo della fortuna E delle poche risorse a disposizione Nonostante l'incomiabile tenace lavoro Delle guardie ecologiche comunali E degli agenti della polizia locale Dedicati a questo tipo di reato Ma dove non arriva il pubblico Come sempre arriva il privato Oltre che a segnalare e a denunciare I cattivi comportamenti Ci mette anche del suo Facendo ciò che l'insensibile con cittadino Avrebbe dovuto fare Siamo in zona Madonna Ponte In via San Michele Una traversa di via dell'aeroporto Per intenderci una strada che porta in campagna E delle abitazioni A denunciare questa situazione Il suo perdurare Un nostro telespettatore Che stanco di osservare Quasi da un anno Questa deprecabile obitudine Oltre che alla polizia locale Ne ha dato anche notizie a noi Io passo qui in questa strada Quattro volte al giorno Perché ho l'orto E vedo queste scene Questi sacchetti chiusi Buttati ai margini della strada Quindi le prime volte Già da un anno Le prime volte L'ho raccolto io E l'ho messo a posto Poi ho parlato con l'Aset L'Aset lo manda a prendere Però qualcuno lo rimette Sempre nello stesso posto Considerando che A cento metri prima Ci sono due contenitori dei rifiuti Dove potrebbe buttarla E cento metri più avanti C'è un punto di raccolta rifiuti Dove potrebbe lasciarlo Però il mercoledì Perché la raccolta è di mercoledì Tutti i giorni Lo butta in giornate qualsiasi In qualsiasi giornata Lui butta Molto spesso anche di giovedì E la raccolta è mercoledì Forse non lo sa Magari glielo facciamo sapere Nel caso che il fantomatico Scaricatore abusivo Non fosse residente nel posto Può lasciare sì L'indifferenziata sul ciglio della strada Ma non quando e dove gli pare Diversamente è un abbandono illecito Di rifiuti Punibile con una multa Fino a 3.000 euro Come recita l'articolo 192 Del testo unico sull'ambiente Ma dà molto fastidio Speriamo che non si ricorda Ma è un anno che va avanti Ecco perché Lo dico a voi Perché ormai non c'è più niente da fare Non lo so In un momento così Civile come il nostro Vedere queste scene Non è piacevole E adesso la seconda segnalazione Che arriva da voi Telespettatori Riguarda Anzi è una video segnalazione Che riguarda una pozzanghera Caro sindaco Buonasera Volevo fare una passeggiata a piedi Fuori dalla pista Per andare a vedere il ponte Mimmo Però ad un certo punto Mi sono imbattuto In questo lago Dove purtroppo manca i pesci Se no mi mettevo a pescare Ecco questo è L'interruzione della strada Perché qua c'è un bel laghetto Ecco adesso devo tornare indietro Guardi eh Bello Lei aveva detto che metteva a posto Qua un anno fa Anche i bidoni dell'immondizia Però ancora qua E tutto così Ecco tutto l'acqua Ecco Eh caro sindaco Lei dice sempre che risolve i problemi O cerca di risolvere il perlò Eh Alcuni rimangono sempre irrisolti E si scorda Grazie Buonasera E adesso invece Guardate questa fotografia Eh Si tratta di una foto curiosa Che sta facendo tra l'altro Il giro in questo momento È diventata cosiddetto È diventata virale E sta facendo il giro del web È un elicottero Che viene rifornito di carburante In realtà è una fotografia vera Perché molti si chiedono Se fosse una Come dire Una burla O un fotomontaggio In realtà no È una foto vera Si tratta di un elicottero Di tipo Robinson R22 A due posti E Quello che vedete di fianco È il suo proprietario Si chiama Giancarlo Regno Un commerciante di giocattoli Di Monte Granaro Che ha dotato L'elicottero Di un kit speciale Per utilizzare La comune benzina verde E quindi Può andare Tranquillamente Nei distributori Poi se Guardate bene Fate attenzione È dotato Sotto Di due piccole ruote Ruotini Che consentono poi Di spostarsi Su terra Proprio per Arrivare Vicino alla pompa Di benzina Pertanto è facile Che il pilota Si è atterrato Nei pressi Della pompa Di benzina E poi si sia spostato Con l'elicottero Per fare Rifornimento Oggi poveriggio La scuola primaria Francesco Gentile Di Fano Ha fatto Un taglio Del nastro Un taglio Di un nastro Per l'inaugurazione Di un atelier Un atelier Creativo Dedicato A Daltos Salucci Recentemente Scomparso È uno dei fiori All'occhiello Dell'offerta scolastica Fanese Il plesso scolastico Gandiglio Gentile Da sempre promotore Di attività scolastica D'alto profilo Ospitando anche Eventi culturali Coinvolgendo Il tutto Il tessuto sociale Della città Da oggi Per i suoi alunni Poi si è dotato Di un nuovo Strumento didattico Presso la scuola primaria Francesco Gentile Oggi è stato inaugurato L'atelier creativo Un luogo dove gli studenti Potranno sperimentare E lavorare Dando sfogo Alla propria creatività Utilizzando sia Strumenti di tipo Tradizionale Che tecnologie E strumenti innovativi Come stampanti 3D E lavagne interattive Questa scuola Ha vinto Un bando A livello nazionale Per L'allestimento Di un atelier creativo Che è uno Spazio Polivalente Polifunzionale Ed è un atto Doveroso Quello dell'intitolazione Il dirigente scolastico Scomparso Atos Salucci Il quale ha Progettato Insieme alle docenti Questo atelier Ma che purtroppo Non ne ha visto La realizzazione E tutta la comunità Si stringe Ancora una volta Intorno alla figura Del suo dirigente Che io Mi onoro Di Purtroppo Che purtroppo Non ho conosciuto Ma che mi onoro Di voler omaggiare Di questa intitolazione Presenti alla cerimonia Anche i familiari Del compianto dirigente Che iniziò Questo percorso All'interno della scuola Di cui oggi Vediamo un risultato Concreto Lasciando così Un segno indelebile Della sua opera Questo ambiente È polivalente Come dicevo Per cui possono essere svolte Sia attività manuali In gruppo Singolarmente Ma anche attività Di riflessione Ad oggi I bambini Stanno progettando Bambini di scuola Primaria Stanno progettando Il carnevale Le loro attività Per il carnevale In questo atelier Si inseriranno Sia attività Di produzione Multimediale Che sia Di produzione Manuale L'inaugurazione Oderna Coincide con L'appuntamento Dell'Open Day Un momento speciale Per conoscere Le attività Che caratterizzano La scuola Come il laboratorio Di scrittura E giornalismo La collaborazione Con l'Università Bocconi Nei giochi Internazionali Matematici Ed il potenzionamento Linguistico Grazie alla presenza Madrelingua inglese E tra gli altri La formazione Di ciceroni Del FAI E i progetti RAE In collaborazione Con ASET SPA Ieri Festa di Sant'Antonio Abate Patrono degli animali Ieri Siamo stati In piazza 20 settembre Per seguire Il rituale Benedizione Il 17 gennaio La chiesa festeggia Il protettore Degli animali Sant'Antonio Abate Nato a Coma In Egitto Nel 251 E figlio Di agricoltori Benestanti cristiani Rimasto Molto presto Orfano E con un patrimonio Da amministrare Da buon cristiano Distribui I beni E i poveri E segui Una vita solitaria Vivendo in preghiera Povertà E castità Una ricorrenza Che tutt'oggi Viene ancora partecipata Quella di Sant'Antonio In molte piazze italiane Ed anche La città di Fano Domenica scorsa Si è ritrovata In piazza 20 settembre Per la tradizionale Benedizione degli animali L'appuntamento Organizzato Dalle giacche verdi Protezione civile Dall'unità cinofila Salvataggio in mare E patrocinato Dal comune di Fano Ha visto la presenza Non solo Di cani e gatti Ma anche cavalli Colombe Porcellini d'India E addirittura Di una lumana Il rituale Anche quest'anno È stato ufficiato Da padre Silvano Bracci Che ha benedetto Sia gli animali Che i loro padroni La festa di Sant'Antonio Abate È diffusa abbastanza Certo nel passato Nelle nostre contrade Nei paesi C'era questa festa Proprio perché Il mondo era agricolo Adesso Non c'è più Diffusione Di lavorazione agricola E di agricoltori Ma come si vede Qui nelle nostre piazze Ci si raduna Portando tutti gli animali Domestici Allora non dimentichiamo Che Sant'Antonio Si benedirà Custodirà Proteggerà i nostri animali Ma sarà più contento Di proteggere noi Credo Che ottenga dal Signore Anche molte grazie Perché in effetti Sant'Antonio Durante la sua vita È stato un uomo Di Dio Ma ha aperto Anche alla carità fraterna Soltanto con l'arrivo del sole Nella tarda mattinata La piazza è stata assediata Da tante persone Con i loro amici animali E non hanno voluto mancare A questo tradizionale appuntamento Ringraziamo l'amministrazione Che ci ha dato la possibilità Di effettuare questa manifestazione E voglio ringraziare Anche tutti i volontari Delle Giacche Verdi Del CB Mattei E del K9 Che hanno collaborato All'organizzazione E al pieno svolgimento Regolare Della manifestazione Vi diamo l'appuntamento Per il prossimo anno Sperando che ci sia più sole E quindi Grazie di nuovo A tutti i cittadini Che hanno partecipato A questo evento E adesso la pagina Dello sport locale Convince ma non vince L'Alma Che si porta a casa Solo un punto da Ravenna Dopo una buona partita Nella quale si inizia A intravedere Quella continuità Che fino ad oggi Era mancata Il miglioramento Che balza di più all'occhio È l'approccio alla gara Tant'è che i Granata Al terzo minuto Sono già avanti Con Capitan Carpani Che di testa Beffa la difesa locale Apparsa un po' addormentata I giallorossi accusano il colpo E al quinto L'Alma potrebbe raddoppiare Ma la conclusione di Paolini È troppo centrale Tra il quattordicesimo E il venticinquesimo Si fanno vivi padroni di casa Ma sui tentativi Di Caidi Giovinco E Purro Fanno buona guardia Viscovo e compagni Non succede nulla Nei restanti 20 minuti Del primo tempo Mentre rientro in campo Dagli spogliatoi È subito il fano A cercare il colpo Del KO Con Paolini Che sbaglia però Il controllo sul più bello Il Ravenna replica Con Eclou Che al sesto Si divora da due passi Il classico gol dell'ex Chi invece non sbaglia È Giovinco Che al dodicesimo Pennellano a traiettoria Su calcio di punizione Che bacia il palo E trafigge Viscovo Per il gol dell'1-1 Sul quale di fatto Si chiude la contesa Perché nei restanti 30 Passa minuti di gioco Alma e Ravenna Pensano più a non farsi male Piuttosto che a offendere Accontentandosi di un punto Che fa rimanere l'Alma In zona play out Con un margine Di due lunghezze Sul Rimini Faralino di coda E a meno uno dal Gubbio Che domenica Farà visita Ai ragazzi di Alessandrini Per un match Che sarà però anticipato Dalla trasferta Di mercoledì a San Benedetto Dove si recupera La prima giornata di ritorno Momento d'oro Per la Vispesaro Che nell'anticipo di sabato Supera a domicilio La San Benedettese Con un gol di De Feo E sale a 25 In una posizione Di classifica tranquilla Che potrebbe anche aprirsi A scenari più ambiziosi Comincia male invece Il 2020 per Eta Beta Nel campionato nazionale Di Serie B Di calcio a 5 La formazione fanese Infatti inizia il ritorno Perdendo 2 a 0 In casa contro il Favenzia Disputando forse La più brutta partita Della stagione Ne approfittano gli ospiti Che chiudono la pratica Già nel primo tempo Con i gol di Grelle E Pozzo Vivo E nel secondo tempo Pensano solo ad amministrare Nulla è perduto comunque Per la compagine fanese Che resta più 5 Della zona retrocessione E a meno 4 Dei playoff Sconfitta casalinga Anche per il buldo Glucrezia in A2 Superata tra le muramiche Dalla Tenex Castelfidardo Degli ex Renzoni e Mazzanti Quest'ultimo in versione Saracinesca All'Omar Sivori Passano gli ospiti Per 7 a 4 E i gialloblu di Osimani Vedono assottigliarsi Il margine di sicurezza Dai playoff A soli 3 punti Inizia a farsi interessante Invece la classifica Della Giban Virtus Nel campionato Di A3 di Volley Nonostante la squadra Di Radici Sia ancora al settimo posto Quindi in zona playoff Il 3 a 1 esterno Di ieri Sul campo del Sandonà Di Piave Fa salire Salgado e Sochi A quota 22 Quindi a due soli punti Di distanza Dai playoff In quello che si sta rivelando Un campionato Super equilibrato Con la classifica Sempre più corta In terra veneta I biancorossi Si portano sul 2 a 0 Ispirati da Ceccato e Bulfon Poi subiscono il ritorno Dei padroni di casa Prima di chiudere Il quarto set Per 25 e 22 Conquistando una vittoria Che fa sicuramente morale In vista del big match Di domenica prossima Quando al Palace Allende Arriverà la capolista Porto Viro Anche la BCC Fano Pedini Impegnata nel campionato Di B2 femminile Torna dalla sua trasferta Con una vittoria Per 3 a 2 Sulla Coneron Umana Blu Le ragazze di Coach Galli Dopo essere andate sotto Per 2 set a 0 Reagiscono E mettono in atto Una rimonta Che le porta Alla conquista Di due punti importanti Per la classifica Dove l'Apav Calcinelli Lucrezia E ora a più 4 Dalla zona retrocessione Quando manca una sola partita Alla fine del girone d'andata Prima sconfitta stagionale Nel campionato di C1 Di rugby invece Per il Fano Che si ferma dopo 9 vittorie consecutive Il 18-7 Con il quale San Benedetto Espugna il Falcone Borsellino È comunque ininfluente Ai fini della classifica Con i ragazzi del presidente Giorgio Brunacci Che arrivano ai play-off Promozione per la B Comunque da primi della classe Di Matteo Fulvio Golini L'unica meta di giornata Trasformata da Alessandro Gasparini Lo stesso San Benedetto Insieme a Pescara Lions Piacenza Reno Bologna E rugby Noceto Saranno ora le avversarie Che i rosso-blu Dovranno affrontare nella pool Per salire di categoria Dal fango del Falcone Borsellino Passiamo alla sabbia Dei centri sportivi Nuova Beach House di Fano Bistedium Marotta E Bola Club di Moie Dove ieri si è disputata La seconda tappa Del secondo campionato Interprovinciale CSI Di Beach Volley Organizzato dal comitato Fanese del Lente In collaborazione Con quello di Ancona In base agli esiti Di queste due tappe Le 17 formazioni partecipanti Saranno ora divise In gold e silver Con fari puntati Su Attenti al Maiale Bistedium One Carambola Birretta Beach E la Sciccheria Serie candidate E con la pagina sportiva Si chiude qui il nostro telegiornale Restate con noi Tra poco c'è primo cittadino Ospite il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci Grazie per aver seguito Occhio alla notizia Noi ci vediamo domani mattina Alle 7 Con la rassegna stampa Arrivederci Grazie per aver guardato il video